Ben trovati a tutti i nostri telespettatori, siamo qui con un grande atleta, un benvenuto a Matteo Cavagnini, capitano della nazionale di basket in carrozzina e della Santa Lucia a Roma. Matteo se puoi spiegarci che cosa è successo un po' all'interno della società nella quale giochi e appunto perché ci sono stati questi problemi finanziari secondo te? Allora purtroppo la questione è molto ampia e non ho nemmeno i mezzi e le capacità per poterla spiegare completamente, il fatto sta che la società è il Santa Lucia Sport, la squadra più titolata d'Italia se non d'Europa, tanto per fare due numeri, per dire due numeri, 21 scudetti, 24 finali di campionato consecutive, 3 coppe dei campioni, una marea di titoli 12 coppe italiana, bravissimo. La squadra è sempre stata gestita dall'ospedale, dall'ospedale Santa Lucia che si trova in Viardiatina. A causa dei forti problemi economici che ha e che non entro in merito, il presidente, il direttore generale Dottor Luigi Amadio ha deciso di chiudere la squadra, anche il settore sportivo. Non ci siamo rassegnati noi giocatori, abbiamo chiesto un incontro, il dottore è stato ben lieto di cederci le quote per non far morire questa realtà e di fatto noi giocatori siamo diventati proprietari e dirigenti di questa realtà. Ok, ti chiedevo, ad oggi quindi qual è la situazione della società Santa Lucia? Ma intanto andiamo per obiettivi, il primo era quello di non farla morire, ci siamo riusciti a iscriverci al campionato, adesso siamo esattamente a metà, facciamo un percorso buono, al nostro progetto hanno aderito parecchi giovani che ovviamente nel mondo romano e insieme stiamo facendo, stiamo creando questo bel gruppo che piano piano sta crescendo e sta ottenendo dei bei risultati. Siamo sicuramente appunto in questo, in un percorso di crescita e sabato, anzi mercoledì prossimo avremo la Supercoppa italiana dove giocheremo a Trapani contro la H squadra campioni d'Italia in carita che è la Briante 84 Cantu. Ok, parlando di te, se ci puoi raccontare un po' a carattere generale, che cosa significa nello specifico basket in carrozzina? Nel mio caso è la vita, vuol dire vita, io ho avuto un incidente stradale a 14 anni, ho perso una gamba, all'epoca giocavo a calcio, non ero sicuramente un fenomeno, ma avevo il sogno di diventare un grande calciatore, il mio idolo era Roberto Baggio. Purtroppo quando vengono a mancare questi sogni oppure a casa di un trauma la vita perde di significato è difficile reagire, non è per niente facile e nel mio caso ho dovuto affrontare due o tre anni abbastanza duri dove ho faticato a riprendere a vivere, ho veramente fatto tripulare la mia famiglia e tutti i miei amici, ho attraversato davvero un periodo buio. Però grazie allo sport che ho incontrato per caso, ho riscoperto davvero il piacere di lottare, il piacere di credere in me stesso, di pormi degli obiettivi e piano piano cercare di raggiungerli e questo per me è stato ritornare a vivere, quella fiammella che pensavo morta, quel sogno che pensavo morto, di colpo si è riacceso e che devo dire il sogno di diventare capitano dalla nazionale, raggiungerlo è stato un traguardo enorme. Certo, appunto parlavamo di nazionale, se non sbaglio dal 98 che giochi in nazionale e sempre leggendo un po' la tua biografia sei un classe 74, quindi a più di 40 anni se puoi un po' svelarci quello che è il tuo segreto per giocare ancora oltre i 40. guarda, è una gran fortuna perché infortuni seri non ne ho mai subiti, quindi fisicamente sto molto bene, però di fondo c'è una grande passione, una grande voglia di competizione, una voglia di migliorarmi ancora, anche a 42 anni, di migliorarmi. Non so, fortunatamente le motivazioni non mi mancano e il sacrificio di andare ogni giorno in palestra e cercare di superare ogni volta quei limiti che mi pongo non è un problema. E poi non nascondo il piacere di incontrare ragazzi nuovi e di avere la presunzione di riuscire, la speranza di riuscire a dare anche a loro la stessa opportunità che è stata data a me 25 anni fa, che è quella di ritornare a vivere, di grazie allo sport, di ricredere in qualcosa. Ripercorrendo un po' la tua carriera hai partecipato a due Paralimpiadi, ad Atene nel 2004 e a Londra nel 2012. Da Bresciano, però, diciamo, che vive a Roma, cosa ne pensi in merito alla rinuncia di Roma 2024? Obiettivamente penso che sia un'occasione mancata. Io mi sono trovato anche a parlare con esponenti del Movimento 5 Stelle che hanno preso la decisione. Certo, sarebbe stato veramente un grande rischio accettare questa candidatura e portarla a termine. Però credo, venendo appunto da una realtà diversa che è Brescia, una città sicuramente più piccola e con problemi diversi, ma affrontando Roma da estraneo mi sono accorto che Roma ha bisogno di questo vestito nuovo, ha estremamente bisogno di un vestito nuovo, di modernizzarsi, di rinnovarsi, di accettare anche una nuova educazione, permettetemelo, nel senso che c'è tanta mancanza di rispetto, soprattutto per le persone che hanno dei problemi. Il classico parcheggiare nei posti riservati, oppure sui marciapiedi, mettendo in difficoltà le carrozzine, o che anche i passeggini. Purtroppo queste cose sono all'ordine del giorno e credo che un'Olimpiade e di conseguenza una Paralimpiade avrebbe sensibilizzato davvero tanto i Romani, la città di Roma e avrebbe, credo, dato in via a una nuova mentalità, a una nuova città. Quindi credi che in un qualche modo Roma potrebbe prendere un po' esempio, seppur in maniera diversa da Milano, insomma, visto che tu sei anche lombardo, da Milano con Expo 2015 magari per cambiare. Sì, non conosco bene il cambiamento che ha affrontato Milano, però sì, questo credo sia la... Comunque mi piace ricordare o ripetere le parole del nostro presidente del CIP, Luca Pancalli, quando dice che nessuna città è pronta ad affrontare le Paralimpiadi, ma è cambiata nel momento in cui le affronta. Cioè la città cambia per forza di cose. Ricevere tutti questi atleti che rappresentano davvero l'elite mondiale, l'elite mondo paralimpico e vedere le loro gesta, condividere, vivere con loro questa splendida avventura che è la Paralimpiade, davvero cambia, non c'è storia. Sì, sì, sì. Oggi quali sono i tuoi prossimi obiettivi? E se un domani, insomma, prima o poi penserai di smettere di giocare, come vedi il tuo futuro? Guarda, ti fermo perché è un tasto dolente. Io non mi ritengo un Peter Pan perché sicuramente non sono un Peter Pan, però devo ancora capire cosa voglio fare da grande, nel senso che io sono iscritto tuttora all'università e vorrei tanto laurearmi. Il mondo del basket, che ne so, non mi pongo limiti perché di fatto mi ha fatto arrivare a questo punto dalla mia carriera è sicuramente la voglia, la voglia di allenarmi, la voglia di giocare, la voglia di agonismo, la voglia di crescere e finché questa mi supporterà non vedo un motivo di smettere. Quindi insomma, un Matteo Cavagnini anche a 50 anni ancora… No, forse mia moglie mi ammazza a 50 anni. Va bene. Matteo ti ringrazio per essere venuto qui nei nostri studi. Un ultimo appello, se mi permetti, la mia squadra come sapete sta affrontando questo duro periodo e vogliamo davvero ritornare ad essere la squadra d'esempio che è stata per tanti anni. Chiedo un aiuto a tutti i telespettatori, nelle loro ovviamente disponibilità. Abbiamo aperto questa campagna di crowdfunding dove ognuno è libero di poter dare il proprio contributo alla nostra causa attraverso il sito www.laretedeldono.it. Basta cercare Santa Lucia Sport e quello che vi sentite noi apprezziamo davvero. Grazie davvero a tutti. Grazie a te. Grazie per essere venuto a trovarci e ci auguriamo che tornerai il prima possibile, insomma, il più presto di nuovo qua nei nostri studi. Grazie a tutti. Un arrivederci a tutti i nostri telespettatori e vi auguriamo un buon proseguimento sulle nostre reti. Grazie. Grazie a tutti.